Si è avvalso della facoltà di non rispondere ma comunque confermato quanto aveva già dichiarato agli inquirenti in fase di indagine. Il minore arrestato per gli spari in via Niscemi ieri mattina si è presentato davanti al GIP del tribunale minorile di Caltanissetta per l'interrogatorio di garanzia. Difeso dall'avvocato Davide Limoncello, pare che abbia sostanzialmente ribadito ciò che aveva ammesso durante gli approfondimenti condotti dai poliziotti, rese una confessione spiegando di aver preso parte all'azione di fuoco con il riferimento di un ambulante di frutta e verdura di un suo conoscente in via Niscemi appunto. Il giovane attualmente detenuto all'IPM di Caltanissetta al momento dell'esecuzione dell'ordinanza era comunque ristretto per la vicenda e la rapina all'ufficio postale di Settefarine. La difesa ha prodotto l'ordinanza eseguita per il 44enne Giuseppe Emanuello a sua volta arrestato per gli spari di via Niscemi. Il legale del minore ha fatto notare che per il maggiorenne non è stata riconosciuta la contestazione mafiosa che invece viene addebitata al giovane. In base a questa linea non ci sono gli estremi per un'eventuale imputazione legata al metodo mafioso. Secondo gli investigatori invece il giovane avrebbe agito proprio con queste finalità. La difesa ha avanzato richiesta per una misura alternativa alla detenzione. Le indagini proseguono.